Salve amiche, benvenute su questo canale dedicato al mio negozio di intimo Monamurlingeri di Pescara e al servizio di Brafitting. Il servizio di Brafitting è la procedura attraverso la quale determiniamo la giusta taglia di reggiseno. Dalle statistiche di settore l'80% delle donne indossa un reggiseno sbagliato e non lo sa. Purtroppo questa non è una colpa scrivibile alle donne, ma al fatto che sul mercato non si trovassero coppe più profonde della D o della E. Oggi i produttori sono andati incontro alle esigenze delle donne offrendo sul mercato coppe fino alla K. Questo rende possibile vestire veramente il reggiseno perfetto per ciascuna di noi. Perché ho scelto di parlare di questo argomento? Perché dal servizio che facciamo in camerino ci siamo rese conto che molte donne hanno difficoltà di individuare la giusta taglia di reggiseno o a vestire il reggiseno. Nei prossimi video andremo ad affrontare quali sono gli errori più ricorrenti nella scelta di un reggiseno e come correggerli. Il negozio è stato aperto nel 2010, nel 2012 è stato premiato come stella dell'intimo e da allora siamo segnalati tra i migliori negozi di intimo d'Italia. Il servizio di Brafitting viene effettuato attraverso l'utilizzo di reggiseni in coppa differenziata. I reggiseni in coppa differenziata non sono esclusivamente di tipo ortopedico e neppure sono destinate esclusivamente ad un pubblico curvi. Il reggiseno in coppa differenziata è il reggiseno che permette di vestire su misura le vostre forme adattandosi al vostro girotorace e alla vostra profondità di coppa. Il nostro video introduttivo si conclude qui. Seguiteci sul nostro canale, vi aspetto presso Mona Mourningerivia sul Mona numero 7 a Pescara per eventuali consulenze. Ciao!